Cari amici di Unibet, torna in campo l'Inter dopo, ahimè, la brutta e pesantissima sconfitta contro il Torino che ha, direi, annullato le speranze di terzo posto della formazione nero-azzurra. Formazione nero-azzurra che però è tenuta a ritrovare i tre punti in un match solo apparentemente facile contro il Frosinone. Vincerle tutte per provare a sperare ancora in questo terzo posto anche se le speranze sono davvero risicate. Ci si affida a Mauro Riccardi alla ricerca del cinquantesimo gol in maglia nero-azzurra a soli 23 anni. Io credo che Mauro Riccardi sia una delle poche certezze in questo momento di nero-azzurri. Puntiamo su un suo gol, magari anche due, su un finale di stagione all'altezza. Ci auguriamo. Grazie.